Salve ragazzi siamo qui, un personaggio eh Switcho un personaggio, uno contro uno Però abbastanza forte che almeno non muori E siamo in questo tutorial con Switcho Vai Switcho parla Switcho parla con la tua voce normale Non si sente un cavo altrimenti Allora, una partita si inizia sempre No, non mi colpire adesso No, non mi colpire Ok, una partita ragazzi si inizia sempre così Guardate Colpissimi Prova a colpirmi e guarda cosa succede, pronti? Colpissimi Oh, guarda! Sì, si riempiti di blast Questo è quello che dovrebbe succedere Però in questo caso io sono più forte di lui e quindi non mi ha beccato Però voi dovete fare in quel modo E' molto importante E adesso Pigliatevi stare Stagano E' oggi in quel modo dovete fare Sontanto che adesso lui non mi ha beccato perchè sono più forte di lui Però voi dovete fare in quel modo, ricordateli eh Eh, io ti ho battuto perchè ma fra c'ho un colpito di istinto Che vuoi fare contro di me? Vabbè dai mo non combattiamo, dobbiamo spiegare non combattere Sì, uno eh Come si dovete iniziare ragazzi? Sempre così eh Perché se fate questo, guarda che succede, avete visto cosa è successo? Avete visto ragazzi cosa è successo? Me l'ha schivato E' stato un proprio problema Mo magari cerco di non ammazzarlo Mo raga mi vuole fare una leggenda di finish ma io gliela schivo Mo li schivo la mia E mi tira i colpi E mo mi ammazza ragazzi Sono morto Sono morto Però non mi ammazzare Non mi ammazzare che dopo ho fatto il tutorial Però sto morendo, sono pochissima vita Non ci ammazziamo Non ci ammazziamo, ok? Però non ci ammazziamo, ok? Fai il revive e non ci ammazziamo, ok? Fai il revive Non ci ammazziamo Quindi ragazzi silenzio, sempre così Guardate, provo a colpirmi E poi dovete controattaccare in qualche modo Quindi inventate un modo per controattaccare voi Però quella mossa sta davvero brutta Perché il leggenda è quello più forte che c'è Isla Non dovevi farlo Non dovevi farlo No, mi ha preso E ora raga mi distrugge Addio mondo crudele Raga mi distrugge Piaci? Non dovevi farlo Wow Ragazzi questo qui è successo Non perché io sono un po' forti di lui No Perché io ho l'ultra istinto E lui no Ok, però quanti personaggi? Due No dai uno, uno No, uno Due al massimo Ok, due 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 o tre No dai Io non ce l'ho una sorta Perché avevo perduto per uno Vabbè Ora ragazzi mi distruggerà Ragazzi adesso ragazzi mi distruggerà Perché nasce il D3 Oh Cosa sono due Ora mi spezza in due ragazzi E' schifo Oh così il match finisce così fra No Hai vero il mio oltre istinto schiva da solo Il mio oltre istinto No ma schiva da solo Ora mi distrugge Addio mondo crudele Ragazzi però mi distrugge amore ragazzi Già avvertito Soprattutto Fatti di negozio che tu tu dai Oltre è finta un bonus di velocità Pila questo qua di carica Laura ricarica la ricarica Laura vieni qui da me E ora ma ci sta molto in trefinti Abbiamo ufficialmente perso oh pure la leggendaria finisli no 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 me fa leggendario finisli noi ho un approcattore aperto questo non posso battere un po' così potente ora me lo scrivo no non me lo scrivo dai energia datemi energia del pianeta nooo me la scrive non me lo scrive secondo me non può fare niente per contrattaccare e mi vuole fare la leggendaria finisli ragazzi leggendari finisli mi vuole fare no lì non c'è il bonus e addio ora mi vuole distruggere questo mi fa la leggendaria finisli addio per sempre non credo che possa resistere e questo era uno scontro tra noi due no fra non è che sei più forte io mi ero preparato con uno forte non con tre comunque continuiamo a spiegare cose adesso fra spieghiamo altre cose vai sempre con uno a spiegare le cose e fino a poi ho spiegato come si scrive a spiegare anche con le tasse ne mettiamo uno eh uno ricorda no e la te ne fai ammazzo due te ne ammazzo due almeno risolviamo no aspetta prima te l'ammazzo tre almeno abbiamo risolto che mi dici cosa vuoi spiegare cosa vuoi spiegare oh non ammazzare spiegare lanciami una blast vado mali un'altra affatto 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 un secondo un secondo affatto ti lancio la blast ecco la blast ma no no ho ripetizione swipe che che cosa devo lanciare che cosa ti devo lanciare che cosa ti devo lanciare swipe hai ripetizione che non fa che non fa vabbè non basta stiamo avvicino hai schifato normalmente continuo 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 non te ne preoccupare fai il revive oh ho il revive ho il revive ho il revive ho il revive ho il questo ma ho il però fa così me la ammazzino con il pressente non possiamo più fare il video ah però spiegami una cosa fra mi puoi spiegare una cosa no 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 mi vuoi spiegare una cosa ma senti che l'ultra no non mi uccidere per favore fa non mi uccidere per favore ma senti che io ho anche la barretta con questo posso schivare no c'è presente come si può ricaricare quello come ah c'è un'altra cosa da spiegare solo per il mio presto come il mio e è per questo ragazzi che ho scelto il mio prestito anche se il suo ti arriva quindi ti viene ma ok cos'è cosa si scrivano come si fa parola a ricaricare Eh no con le verdi no Fra non si ricarica con le verdi Ho provato No non si ricarica Fra con le verdi Mi sa che non si possono ricaricare Oh Fra me l'ammazzi così però Me l'ammazzi me l'ammazzi Questo è il racinash ragazzi Questo è molto potente come vedete E' davvero potente il racinash vero? Però adesso lì mi ammazza perché si può schivare il racinash Ho visto che adesso lui ha uno di vita Fra me l'ammazzi Fra si stupido Me lo uccidi? Così Ecco Prendiamo il gioco Fra perdi provo con le cose verdi Ti dico Time up You win Aspetta Aspetta fammi Qua dai ok qua dai Ciao 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 Ciao